www.fema.it Aldo, fammi una cortesia. Non mi chiamare papà. Cos'è il giusto? Boh, lo sai tu? Te li... Va bene! Massimi, come stai? Meglio. Buonasera, buonasera a tutti voi. Io voglio ringraziarvi, come si fa di solito quando si ricevono questi bei riconoscimenti. Sono veramente molto contento di questo premio. Ci tengo tanto a questo corto. Il regista sceneggiatore Lorenzo Marinelli lo sa bene quanto lui abbia desiderato la realizzazione di questo film e con quanto entusiasmo io abbia accettato di prendervi parte. e ringraziando voi voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno preso parte a questo film con i quali condivido con gran piacere il premio ricevuto. Grazie e viva il cinema sempre! Grazie! 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 Grazie!